Domenica 27 settembre Matera, sono circa le 12.30, forse le 13. Abbiamo finito la nostra avventura ragazze, sto riprendendo le ultime cose qui a Matera, soprattutto i sassi, proprio perché qui è iniziata la nostra avventura alle 6.30 di giovedì mattina, quando appunto vi dicevo le mie prime impressioni. Un'esperienza emozionante, un'esperienza bellissima. Ritorno a casa con un carico, un bagaglio culturale diverso, un punto di vista diverso. Ritorno a casa anche, devo dire la verità, con una borsa piena di libri da regalare a voi ragazze nel blog. Abbiamo aperto la finestra agli editori, alle scrittrici, a altri lettori, una finestra sul web. Una finestra importante, che appunto sono i blogs, tra cui Immergiti in un mondo rosa. Grazie ragazze per averci seguito, speriamo di non avervi annoiato troppo. Le prossime novità le vedrete nel blog prossimamente, nei prossimi giorni. Intervista, curiosità. Per adesso io vi vorrei lasciare con questo, con uno splendido mazzo di fiori, che ieri sera Arlequin Mondadori ha regalato a June Ross, ma June Ross lo sapete bene, non è una persona sola. June Ross rappresenta un blog corale, un blog fatto da tutte noi lettrici appassionate e da sola June Ross non avrebbe motivo di esistere, non sarebbe nemmeno divertente essere appunto e creare da sole un blog. Ecco quindi a June Ross, grazie per il tuo mondo rosa, Arlequin Mondadori, e questo ragazze è dedicato a tutte voi, che continuate a sostenerci, che continuate a seguirci. Grazie ragazze. Saluti da Matera. Grazie.